Amiche e amici di Rossini TV, siamo in località Casprete, in comune di Tavullia, vicinissimo al comune di Pesaro, è praticamente un luogo di confine, e verrà inaugurato l'impianto ultrafiltrante e ad osmosi inversa per il trattamento del percolato. Di cosa si tratta? Dell'acqua reflua che passa attraverso i rifiuti. Grazie a questo sistema che, pensate, verrà presentato oggi e che è costato un milione e mezzo di euro, e quindi un investimento molto importante, si potrà risparmiare in termini di inquinamento qualcosa come 192 milioni di tonnellate di enidride carbonica. Perché? Perché questo percolato non sarà più trasportato dai mezzi di trasporto, dai camion, dai veicoli, bensì potrà essere trattato direttamente qui nella località Casprete. Andiamo ad inaugurare un impianto ad osmosi inversa, in grado di trattare tutto il percolato, quando viene prodotto sia la discarica vecchia in post-mortem, sia quella in esercizio, e conseguentemente risparmiamo un bel po' di tonnellate di CO2 emesse in atmosfera per effetto del trasporto con i camion dello stesso percolato. E conseguentemente credo che oggi sia anche l'occasione per dimostrare al mondo, alla collettività, come un impianto che tratta i fiuti possa essere compatibile con il territorio in modo sostenibile e soprattutto contribuendo al miglioramento ambientale. La tecnologia, la tecnica è semplice fondamentalmente perché è un filtro, il problema è che il filtro è a maglie minuscole, invisibili all'occhio umano, quindi sono dei filtri di plastica con un passaggio dell'ordine dei micron, quindi parliamo di millesimi di millimetro, cose che non si vedono ad occhio nude o che mai si devono vedere con il microscopio, perché sia efficace all'interno di un processo di depurazione del percolato, che è praticamente l'acqua a contatto con i rifiuti che si carica dalla parte organica, dalla parte eventualmente dei metalli, per depurare, quindi per togliere tutte queste parti, vengono utilizzati questo sistema di filtrazione, prima chiamiamo ultrafiltrazione, quindi come un filtro normale passando da particelle più grande, mano a mano più piccole, per poi arrivare alla filtrazione osmosi con l'ausilio della pressione, pressione, si parla di pressioni fino a 100 bar, 100 bar è un chilometro di colonna d'acqua sopra di noi e quindi sono cose molto importanti, anche energivore, ma che ci danno il risultato atteso. L'investimento è importante da un milione e mezzo e consente appunto di gestire il percolato direttamente della discarica direttamente di questo impianto osmosi inversa, evitando viaggi delle autobotti che 500 circa all'anno che vanno fuori regione con il conseguente risparmio di CO2 prodotta, di conseguenza questo è un fatto importante e come è un fatto importante è anche la gestione della discarica, anche per il futuro, anche nel cosiddetto post-mortem perché appunto il percolato non si esaurisce con l'esaurimento della discarica ma continua a essere prodotto. È un investimento che consentirà una migliore vivibilità in questo territorio, lo dico sempre in ogni occasione con un grande senso di ringraziamento nei confronti dei miei concittadini, anche vicini di casa perché nella nostra frazione di babucci e dintorni un migliaio di persone da 30 anni vivono con questo impianto vicino a casa. Impianto che negli ultimi tempi con investimenti di questo tipo ci ha consentito di vivere molto meglio. L'impianto di oggi consente una migliore vivibilità a livello ambientale perché riduce l'inquinamento atmosferico che soprattutto è dato dal traffico di mezzi pesanti che venivano a prendere il percolato almeno due mezzi al giorno. Quello che abbiamo, quello che proviamo, tutti quelli che lavoriamo qui è grande passione per il nostro lavoro, nonché amore per il nostro territorio perché noi viviamo qui, siamo di qui e dunque lo vogliamo gestire nel modo migliore che la tecnologia ci permette, che il nostro modo di operare ci dà la possibilità di fare e puntiamo sempre continuamente al miglioramento. Grazie. Grazie.